ragazzi buongiorno benvenuti in questo nuovo video allora oggi ho voglia di fare un po di ordini su amazon perché c'ho da fare un po di acquisti fotografici quindi fai a me ordinare un attimo un po di roba e poi ci si fa qualche recensione sopra almeno vi spiego un po di cose allora io ordino sempre su amazon perché risparmio sempre qualcosa e soprattutto la spedizione è veramente velocissima ragazzi allora vediamo insieme se davvero amazon è così veloce efficace come dice nelle spedizioni amazon ok allora metti nel carrello questo puoi questo nel carrello questo procedi con l'acquisto si ordina che velocità ok vediamo un po cosa c'è in questo pacco è arrivato veramente una velocità sorprendente ragazzi oggi vi mostro cosa sono queste due cose che ho appena ordinato allora andiamo a prendere le macchine intanto abbiamo le macchine le due cameras questa è la mia macchina con il mio 35 mm una cosa importantissima ragazzi è la cura della nostra lente ok a parte la pulizia ma adesso voglio parlare proprio della protezione della lente gli obiettivi costano una fiammata di soldi no poi chiaro dipende quale obiettivo ma in ogni caso penso che voi li vogliate bene la vostra attrezzatura no e quindi dato che anch'io voglio bene la mia attrezzatura ho comprato dei filtri UV che sono dei filtri per proteggere la lente dalle botte dagli urti no ad esempio una situazione in cui mi torneranno utili saranno le foto agli eventi quando sei in mezzo a un di gente e cerchi di muoversi come ti danno le botte puoi rischiare di sbattere la tua macchina contro delle pareti o contro insomma persone eccetera e quindi è molto importante proteggere la lente c'è un modo è per riuscire a proteggerla e cioè con il paraluce a parte il paraluce ha anche un altro scopo ovviamente però anche con il paraluce possiamo proteggere la lente dagli urti perché al massimo si rompe il paraluce ma non l'obiettivo ok però io ho deciso di fare questi filtri che sono veramente utili secondo me poi non costano un cazzo per tutti gli obiettivi mi raccomando ragazzi eh come cazzo siamo guarda qui guarda guarda ecco il filtro guarda bellezza sembra tipo uno scrigno no dice che c'è qui un rolex no niente rolex ragazzi ancora no non sono riuscito a fare abbastanza soldi con la partner di youtube ecco lui mi raccomando non sportiamolo con le tita magari non so cosa hai fatto prima di via di filtro in mano però qualsiasi cosa hai fatto non toccarlo ogni lente al suo diametro quindi mi raccomando informatevi sul diametro della vostra lente che è riportato sul copio obiettivo c'è scritto riguarda diametro 67 quindi questo filtro è giustamente di 82 perché è per l'altro obiettivo e quindi andiamo a prendere l'altro obiettivo 24 72.8 vado a togliere vado a togliere anche il paraluce per lavorare meglio vado ad avvicinare la filettatura che vado ad avvitare la mia non la mia il mio filtro uv ragazzi un filtro che non serve a un cazzo se non a proteggere la lente tac questo è un filtro amazon basic non ho speso un cazzo guardate come è bella adesso eh bella protetta ora posso fare qualsiasi cosa voglio no ad esempio dice madonna ho fatto delle foto di merda fanno proprio schifo oddio fanno schifo bui da una bozza ecco in questo modo non ti si rompe l'obiettivo quindi questo è il suo scopo ora riavvito qui paraluce lo posso rimettere tac poi dice come ma valter ora con il filtro non posso più mettere il copio obiettivo no non dire cazzate lo puoi mettere stai tranquillo rilassati guarda è a posto poi passiamo all'altro filtro questo è più piccolo per il diametro appunto 67 mm per il mio 35 mm vado a avvitare anche qui ovviamente tac eccolo qui ragazzi ora è bello protetto ora posso andare in giro e fare anche un po il fenomeno così cioè tranquillamente fai così sì questo obiettivo qui sì non lo spacchi mi dispiace non me lo spacchi quindi insomma molto utili questi filtri e la qualità non cambia insomma vedi faccio una prova ma non cambia ragazzi vi vedo sempre molto bene molto nitili ragazzi insomma io ho fatto questo acquisto perché ci tengo veramente tanto alle mie lenti alla mia attrezzatura dato che l'ho pagato un sacco di soldi e non voglio rischiare di spaccare ogni cosa perché magari vado a un evento boom boom me la spaccano oppure faccio le foto di merda mi incazzo e sbatto tutto e quindi rompo gli obiettivi quindi sempre meglio prevenire che curare come io sempre nei miei video ragazzi si troverà sempre al solito discorso poi dopo non è che se non compri filtri poi dopo spacchi la lente mi viene a scrivere ho fatto io ho rotto l'obiettivo come faccio a ripararlo me lo ripari no è troppo tardi se l'avevo detto prima non me lo voglio ascoltare bene ora mi dispiace io invece con questi bei filtri nei loro cofanetti grazie a questi filtri posso fare che cazzo mi pare i miei obiettivi senza nessun problema quindi vi lascio i link in descrizione ragazzi se volete prenderli anche voi volete essere cool ma protetti come me ci si vede un nuovo video per farvi vedere gli altri prodotti ordinati perché c'è di mezza ora vado ciao ragazzi